Buongiorno ragazzi, completiamo la lezione sui metalli cominciando a parlare di ferro. Il ferro è uno dei metalli più diffusi in natura ed è anche il più importante dell'industria. Allo stato puro non è utilizzato, ma vengono impiegate le sue leghe. Le leghe del ferro principali sono la ghisa, che si ottiene fondendo il ferro più una percentuale di carbonio superiore al 2%, e l'acciaio, che ho ottenuto mettendo insieme ferro più carbonio in una percentuale inferiore al 2%. Come dicevamo oggi in classe, possiamo distinguere la ghisa dall'acciaio per il colore caratteristico che ha la ghisa, questo colore scuro che ricorda in qualche modo appunto il carbonio. Vediamo un po' di approfondire la ghisa. Quali sono i prodotti che oggi vengono realizzati con la ghisa? Innanzitutto impianti idrici e di riscaldamento, ma anche prodotti di arredo urbano, come le panchine, cestini, lampioni e anche ringhiere e balaustre. Quali sono le principali proprietà della ghisa? Innanzitutto è facile a lavorare la perfusione, però è un materiale fragile e non è duttile e nemmeno malleabile. Come si produce? La produzione avviene nell'alto forno, detto così proprio perché è un forno molto molto grande. L'alto forno è costituito da una serie di zone, se così vogliamo dire, a differenti temperature. Per ognuna di queste zone avviene un particolare tipo di processo. Cominciamo con la prima fase. Nella prima fase vengono caricati nell'alto forno i minerali del ferro, il carbon coke, più una serie di materiali che aiutano la fusione. Successivamente, nella seconda fase, il materiale comincia ad aumentare di volume, fino ad arrivare poi alla terza fase, nel ventre a 1300 gradi centigradi, dove il ferro comincia a unirsi, a combinarsi con il carbonio. Arriviamo poi alla fine, nella fase 4, nella sacca dove c'è la vera e propria formazione della ghisa e infine la ghisa fusa viene raccolta. Questa ghisa fusa può essere poi subito lavorata oppure può essere trasportata presso altro luogo per ricavare l'acciaio, ma questo lo vedremo dopo. Questa è una fotografia dell'alto forno. Capiamo benissimo com'è appunto quanto sia grande. Vediamo un po' l'acciaio. Quali sono i prodotti? I prodotti sono tantissimi. Andiamo dall'edilizia, l'alimentazione, il settore dell'industria, nel campo medico, ma anche nel design. Quali sono le proprietà dell'acciaio? Allora, una buona resistenza a trazione e compressione. È un elemento duttile e anche malleabile. Queste proprietà fanno sì appunto che sia altamente utilizzato. Come si produce? Partiamo sempre dall'alto forno e quindi dalla ghisa. La ghisa successivamente può essere trattata in convertitori oppure un altro processo è quello attraverso l'utilizzo di forni elettrici o il forno di Martin Siemens. In questo caso la ghisa può essere benissimo accoppiata a rottami di ferro. Questa è una fotografia di convertitore. Quali sono i tipi di acciaio? Allora, gli acciai più comuni sono gli acciai da costruzione, ma anche gli acciai per utensili. Poi abbiamo anche degli acciai speciali, come per esempio l'acciaio inossidabile, l'acciaio chirurgico e l'acciaio corten. A vederlo in figura l'acciaio corten è proprio questo, che dall'aspetto somiglia più al rame, se così vogliamo, e non all'acciaio. Ma è un acciaio molto utilizzato soprattutto negli ultimi anni nel settore dell'architettura del paesaggio e quindi della progettazione, diciamo così, degli spazi pubblici e degli spazi esterni. L'acciaio chirurgico, abbiamo detto utilizzato in campo medico, ma anche per esempio nel settore dell'orificeria dei piercing. L'acciaio inossidabile, quello che viene utilizzato nelle nostre batterie da cucina, è l'acciaio da costruzione, utilizzato appunto nell'edilizia. Andiamo a conoscere il rame. Il rame, l'abbiamo visto, è stato il primo metallo utilizzato dall'uomo ed è tra i più importanti che sono utilizzati oggi. Cosa possiamo fare con il rame? Innanzitutto cavi elettrici, impianti di riscaldamento, gioielli, pentolame vario, grondaie, ma anche monete. Tutti questi utilizzi perché ha queste importantissime proprietà. È duttile, è malleabile ed è un ottimo conduttore di elettricità e di calore. Come si produce il rame? Ovviamente i minerali vengono in una prima fase frantumati attraverso un frantoio e poi una macina. Una volta che il rame viene ridotto ad una granulometria veramente fine, viene portato in una camera di flottazione e successivamente passa al forno. Nel forno i residui, le impurità fuoriescono sotto forma di gas e quindi il rame è pronto per passare al convertitore. Dal convertitore otteniamo il rame fuso, percolata e successivamente viene trattato attraverso la conversione elettrolitica. Alla fine realizziamo i prodotti finiti che possono essere appunto pentole, tubi, fili elettrici e così via. Quali sono le leghe più utilizzate del rame? La lega di ottone che si ottiene il rame più zinco e il bronzo che si ottiene il rame più stagno. Vediamo un po' cosa facciamo con l'ottone. Con l'ottone si realizzano tubazioni, maniglie, rubinetteria, ma anche strumenti musicali, perché ha una proprietà che è proprio una proprietà acustica, che è tipica di questa lega. Poi è anche duttile, malleabile e inattaccabile dagli agenti chimici ed ha questo colore giallo lucente che è molto particolare. Del bronzo, scusate, del bronzo, ricordiamo che le sculture artistiche, come per esempio i bronzi di riace, ma anche tubazioni e raccordi, è la cosiddetta trafilatura al bronzo, che è un tipo di trafilatura che subisce la pasta attraverso appunto dei macchinari che sono realizzati proprio con il bronzo. Quali sono le proprietà? Malleabile ed utile ed ha un'elevata durezza, soprattutto all'aumentare della percentuale di stagno. Importante del rame ricordare che il recupero dei rottami di rame delle sue leghe permette un risparmio energetico dell'85% rispetto al rame primario. Infatti il rame appunto è un materiale che va, che deve essere, che può essere riciclato. Alluminio è il terzo elemento più abbondante sulla terra ed è utilizzato in moltissimi settori. Abbiamo alluminio da cucina, lattine, teglie, tubazioni, gli infissi, le pentole. Questo grazie alle sue proprietà che sono la duttilità, malleabilità, ottimo conduttore di elettricità, è molto leggero e soprattutto è riciclabile. Infatti se analizziamo il ciclo di produzione dell'alluminio vediamo che dopo l'estrazione e la realizzazione del prodotto finito il ciclo si chiude perché l'alluminio può essere riciclato. Addirittura l'alluminio delle lattine, una lattina di alluminio, è interamente riciclabile, anche in questo caso con notevole risparmio su tutte le risorse che vengono impiegate nel ciclo produttivo. Quali sono le leghe più importanti dell'alluminio? Il duro alluminio che è formato da alluminio, rame, magnesio e manganese e l'anticorodal, alluminio, rame, magnesio e manganese e anche silicio. Qual è la caratteristica di queste leghe? Che hanno un'elevata resistenza meccanica ma allo stesso tempo sono molto leggere. Addirittura l'anticorodal ha una resistenza agli agenti atmosferici e quindi alla corrosione. Vediamo un po' di altri metalli, cosa possiamo dire. Per esempio il magnesio viene utilizzato per realizzare una lega all'electron che viene impiegata per pezzi di massima leggerezza come le ruote, gli elementi di alcune strutture delle auto, addirittura per gli aeroplani. Il cromo viene impiegato come rivestimento delle superfici metalliche perché resiste anche alla corrosione. Questo rivestimento, questa finitura viene definita appunto a cromatura. Lo stagno, abbiamo detto, viene utilizzato per fare la fabbricazione della latta, il piombo per esempio per tubi, lamiere, ma anche per la fabbricazione degli accumulatori al piombo. Il nickel lo troviamo un po' ovunque, negli acciaio inossidabili, nei rivestimenti protettivi, nelle resistenze elettriche, ma anche nella fabbricazione di batterie elettriche. Lo zinco, vasche da bagno, coperture di tetti, grondaie, si rivestono di zinco, lamiere e fili di ferro per preservarli dalla ruggine, come per esempio il ferro zincato. L'oro, l'oro lo conosciamo tutti, è molto molto impiegato nella oreficeria. Il titanio è impiegato nell'industria aerospaziale, ma anche per le protesi di ortopedia e odontoiatria. L'argento lo conosciamo anche, è impiegato in oreficeria. Facciamo un piccolo focus e attenzione sui metalli pericolosi per la salute, perché dobbiamo sapere che alcuni metalli possono avere delle ripercussioni appunto sulla salute. Per esempio il mercurio, che deriva da scarichi industriali, lo possiamo ritrovare nei nostri alimenti. attraverso appunto la catena alimentare, partendo dal plankton e i pesci che se ne nutrono, fino ad arrivare appunto all'uomo, con conseguenze gravissime. In questa tabella vediamo quali possono essere i sintomi dell'intossicazione da mercurio. Arriviamo addirittura allo shock e al collasso, insufficienza renale, problemi di memoria. Quindi vediamo che i metalli agiscono in maniera comunque negativa nei confronti del nostro organismo. Un altro esempio possono essere i sintomi dell'allergia al nickel, dove il nickel lo troviamo addirittura nei cosmetici, nelle creme, lo possiamo trovare anche nella bigiotteria, nell'abbigliamento, lo troviamo un po' ovunque. E i sintomi dell'allergia sono anche in questo caso abbastanza gravi. Concludiamo tutto quello che riguarda i metalli con un mini test, dove dovete descrivere almeno una caratteristica che contraddistingue il ferro, il rame e l'alluminio. Per quanto riguarda i compiti per casa, al solito riguardate il video e integrate gli appunti e studiate dagli appunti e dal libro da pagina 40 a pagina 49 e completate il mini test iniziato in classe. Buono studio a tutti!